C'è sconcerto a Vallo della Lucania dopo l'arresto avvenuto una decina di giorni fa di una coppia residente alla frazione Massa. Lui originario del posto, lei di origine straniera, finiti in manette per una vicenda a sfondo sessuale che coinvolge una minorenne, figlia della donna. Su quanto accaduto vige il massimo riservo. Non è chiaro infatti se ad aver fatto scattare i provvedimenti siano stati presunti abusi compiuti dal patrigno nei confronti della figlia sedicenne della compagna arrivata da qualche anno in Italia o se dietro alla vicenda ci sia qualcosa di più con lo sfruttamento della ragazza ai fini della prostituzione. Comunque pare che il patrigno l'abbia costretto a subire atti sessuali e la madre, non avendolo impedito, sarebbe stata a sua volta per questo sottoposta all'arresto. Gli inquirenti hanno le bocche cucite ma la notizia è trapelata in paese. Ora il patrigno della giovane è rinchiuso nel carcere di Vallo della Lucania destinato proprio ai reati a sfondo sessuale. La mamma invece si trova in un altro carcere campano. La sedicenne è stata messa al sicuro in una casa famiglia in attesa che si chiarisca che cosa è accaduto davvero se le accuse rivolte verso i due componenti della sua famiglia hanno qualcosa di concreto o meno. La coppia finita in carcere ha altri figli. La sedicenne invece, nata da una precedente relazione della donna, si trovava nel paese originario della madre e solo da qualche tempo si era ricongiunta la nuova famiglia a massa di Vallo della Lucania. Qui però qualcosa è accaduto che ha fatto scattare le indagini e portato all'arresto delle due figure genitoriali.